Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, bentornati sul secondo canale uscirà un video in cui vi vado a parlare delle altre partite di UL più quelle di UECL ovvero di Conference Fatto sta che andiamo a parlare di aprile di Atalanta-Bayern-Leverkusen Allora ciao e bentornati in questo nuovissimo video, vi invito a iscrivervi al canale perché questo canale di calcio si parla solo e esclusivamente di calcio Magari una volta che c'era la guerra in Ucraina parliamo solo di quello, un video che non c'è mai stato e che avevo per ora recato Fatto sta che vi invito a iscrivervi al canale e a andare su calcio pura extra e iscrivervi anche là perché? Perché là pubblicherò un video in cui vado a parlare di tutta l'Europa League ma non pubblico solo quello, pubblico a volte campionati esteri che non siano l'italiano ma anche la Premier, la Liga Fatto sta che mi sono dilugato troppo e c'è un po' di cui parlare in questa Atalanta-Wire Partita assolutamente che aveva tanto hype per quanto mi riguarda ed era anche giusto forse il big match, il match migliore di questi ottavi anche se veramente in queste ottavi di Europa League quest'anno abbiamo l'imbarazzo della scelta veramente ci sarebbe stato anche l'Ipsia-Sparta che secondo me sarebbe stato un bel match forse quello un pochino più scarso sulla carta e più bruttino è stato Glasgow-Stella Rossa Rangers-Stella Rossa che comunque è venuta fuori una partitona e Sporting Braga contro Monaco che è stata più noiosa ma vi vado a leggere le squadre che partecipano c'è veramente abbiamo un'Europa League bellissima quest'anno una Champions Mini perché che vi piace o no? Siviglia, Atalanta, Bayern potenzialmente, Porto, Lione, Barcellona sono squadre la Champions League quindi è una bella Champions, fatto sta che Atalanta-Bayern-Leverkusen che si mette sui piedi all'Atalanta 3-2 ho visto che nessuno è esultato, non si è esultato tanto per questa vittoria l'Atalanta è passata a mio parere troppo inosservata sia sui social ma in generale con l'Atalanta-Muriel, Muriel si riscopre insieme a Malinowski, ha fatto tutto loro Muriel fa l'assist al 23esimo per Malinowski che segna Malinowski fa l'assist al 25esimo per Muriel che segna e l'assist ancora ai Malinowski per Muriel al 49esimo mi immagino il fantalleratore che ce li ha mettiamo che prendano 7,5 tutti e due Muriel gli prende 7,5 più 7 gli prende 14,5 Malinowski gli prende un sacco, gli prende mi sa 12,5 veramente assurdo oggi, fatto sta ragazzi che passa in vantaggio il Bayer però con Florian Wirtz, Florian Wirtz, quanto è forte Florian Wirtz nessuno ne parla ma è una bestia di satana ragazzi questo è Dio sceso in terra, non esageriamo però è veramente un giocatore spaziale Florian Wirtz, sempre sottovalutatissimo è sempre che nessuno lo considera e poi il gol di Charles Aranguiz Charles, Charles e Charles Leclerc veramente è sempre un trigger e poi il 3-1 che stava veramente dando all'Atalanta ha avuto quei momenti da Dio e poi è arrivato il gol di ho scoperto adesso, stavo guardando il post partita un pochino di Dazon ho scoperto che Diaby ha giocato nel Crotone, ha giocato contro Juve e Genoa pazzesco in Serie A nel 2018 e segna Musa Diaby che anche lui ragazzi è un bel giocatore io dico che potrebbe essere un nome, non dico tanto, proprio della stessa Atalanta per l'Atalanta, per la Fiorentina e questo potrebbe già essere un pass perché oggettivamente il Bayer Leverkusen è una squadra della Madonna veramente sono guidati da alcuni giocatori ma è proprio una bella squadra hanno anche una difesa che sulla carta è veramente forte Radecki importa che non si tocca Frimpong, Jonathan Ta, Tapsoba Becker o Bakker, Bakker Bakker attualmente in prestito del PSG mi aveva già fatto vedere Tapsoba e Ta, Ta è già super affermato col Bayer Tapsoba si sta affermando e Frimpong pure hanno veramente una grande formazione secondo me è anche troppo sottovalutata poi c'è Aranghese, Palacios, Adli, Virz e Tiaby hanno veramente una grandissima rosa poi l'attaccante Alario ma forse l'attacco in cui Andrea è un po' a punta e le rare ma anche la panca è veramente forte questa rosa fatto sta che poi l'Atalanta dimostra ancora una volta quanto cavolo sia grande sia grandissima l'Atalanta c'è stato uno stacco un po' psicologico fatto sta che vince, l'Atalanta vince non proprio nel mondo migliore perché sicuramente io fossi stato un tifoso atalantino avrei preferito vincere con 3 a 1 hanno oggettivamente fatto la partita migliore rispetto al Bayer e secondo me c'è anche tanto rancore in loro fatto sta che questo ragazzi era il mio post partita parleremo sul secondo canale o magari perché no domani ore 7 di Vitesse Roma noi come sempre ragazzi ci vediamo domani ore 7 al mattino 3.45 e perché no forse un video serale non lo so e io vi saluto ciao ciao